L'impero spagnolo all'epoca di Filippo II di Asburgo. Filippo II di Asburgo, figlio di Carlo V, inauguratore del ramo spagnolo di questa dinastia, dopo la scomposizione del proprio impero compiuta da Carlo V nel 1556, Filippo II, dicevo, domina la storia europea della seconda metà del Cinquecento, così come suo padre, Carlo V, aveva dominato la storia europea della prima metà del Cinquecento, l'aveva dominato con la sua figura, con la sua personalità. Filippo II, in effetti, è in certo modo l'incarnazione dello spirito della controriforma, cioè di quell'epoca di reazione cattolica alla sfida che viene soprattutto dal mondo protestante. Filippo II era un re, un monarca, ma il suo regno, considerandone l'estensione, e considerando anche la varietà dei popoli e dei territori che comprendeva, dovrebbe essere più precisamente definito come un impero, insomma un regno di nome, un impero di fatto, quello di Filippo II. Al culmine della sua estensione, l'impero di Filippo II, infatti, comprese oltre ai territori lasciatigli in eredità dal padre, vale a dire la Spagna, le colonie spagnole dell'America centro-meridionale, le fiandre o paesi bassi, all'epoca con questa espressione si intendeva l'intero complesso degli attuali Belgio, Olanda e Lussemburgo, i territori italiani, il Lucato di Milano, lo stato dei presidi, cioè una serie di fortezze e piazze forti collocate sulla costa tirrenica della nostra penisola, e infine e soprattutto, per quanto riguarda l'Italia, il regno di Napoli, cioè tutta l'Italia meridionale più la Sicilia e il Sardegna. Bene, oltre a questi territori già di per sé vastissimi, successivamente il regno, o meglio l'impero di Filippo II arrivò a comprendere anche il Portogallo con le sue colonie, perché Filippo II aveva ereditato indotte dalla sua prima moglie, la sua prima moglie, ebbe più di una moglie Filippo II, aveva ereditato indotte dalla sua prima moglie, figlia del re del Portogallo, appunto anche la corona portoghese con i territori legati all'amministrazione portoghese, al governo del re del Portogallo, cioè il Brasile in America meridionale, e diversi avambini, avamposti coloniali in Africa e in India. Il Portogallo, con le sue colonie, sarebbe rimasto legato, unito alla Spagna dal 1580 fino al 1640, quindi ben oltre la morte di Filippo II, avvenuta nel 1598. Ma non basta perché a tutti questi smisurati territori si aggiunse a un certo punto, durante il regno di Filippo, anche la conquista delle isole filippine. Isole filippine che segnano grossomodo il punto di passaggio dall'oceano indiano all'oceano Pacifico, che furono colonizzate, conquistate, sottomesse e colonizzate proprio durante il regno di Filippo II e furono chiamate così filippine proprio in suo onore. Su tutti questi immensi territori, Filippo II, che era nato nel 1527, regnò dal 1556, quando non aveva ancora 30 anni, fino al 1598, anno della sua morte, avvenuta all'età di 71 anni. Come impostò Filippo II il governo, la gestione, la gestione, la amministrazione di un impero così vasto e così variegato, così composito, un vero mosaico di popoli e di territori? Filippo II scelse per governare, gestire e amministrare questo suo impero, forse l'impostazione meno adeguata. Tanto per cominciare stabilì la capitale di questo suo impero nel cuore della Spagna, a Madrid, e fece costruire la propria corte, il palazzo dove risiedeva, alle porte di Madrid. Si trattò del palazzo dell'Escorial. Madrid e l'Escorial dunque furono i due, come dire, centri politici dell'impero di Filippo II. Ma già questa scelta, la scelta di una capitale situata nel cuore della Spagna, Madrid, è la scelta di stabilirsi e chiudersi in un palazzo situato a poca distanza da questa capitale così centralizzata, così interna al territorio spagnolo, già di per sé questa scelta era, come dire, inappropriata, infelice, inadeguata. Perché? Ma perché sarebbe stato più opportuno per le caratteristiche proprio geografiche dell'impero di Filippo II, scegliere una capitale affacciata sul mare e quindi più facilitata nelle comunicazioni, che all'epoca appunto avvenivano via mare, con le diverse parti dello smisurato territorio dell'impero di Filippo II. Ma la mentalità centralistica di Filippo II, e poi chiarirò questo concetto, non si esaurisce soltanto nella scelta di una capitale come Madrid, come Madrid, situata nel cuore del territorio spagnolo. La mentalità centralistica di Filippo II emerge soprattutto dalla sua ferma volontà di tenere sotto il proprio stretto controllo ogni aspetto della vita del suo impero in ogni angolo di questo stesso impero. Insomma, Filippo II non era per nulla disposto a delegare il suo potere ai propri rappresentanti, non era affatto intenzionato a decentrare questo potere, a distribuirlo ai rappresentanti appunto del re di Spagna presenti nelle diverse parti dell'impero. non era disposto in altri termini a concedere nessuna forma di vera autonomia, autonomia politica, autonomia gestionale, autonomia amministrativa, autonomia anche economica, fiscale, alle diverse componenti del suo impero. tutto doveva essere riportato alla sua attenzione, tutto doveva essere sottoposto al suo controllo, tutto doveva essere rimesso alle sue decisioni. In questo soprattutto consiste il carattere centralistico dell'impostazione data da Filippo II al governo del suo impero, nel concentrare la gestione, l'amministrazione, il governo di questo impero nelle mani del sovrano, del re, dello stesso Filippo II, che impersona appunto il potere centrale dell'impero spagnolo, di quel regno di Spagna che in realtà era un impero. ma Filippo II non si limita a questo. Nel prendere decisioni, poi, Filippo II è estremamente cauto, lento, meticoloso nel soppesare tutti gli aspetti di ogni questione che gli viene presentata, nel valutare i lati positivi e i lati negativi, i pro e i contro e i contro, sicché, prima di arrivare ad una decisione, lascia passare anche moltissimo tempo. Veniva infatti soprannominato il re prudente, il re prudente, appunto perché si pensava su moltissimo prima di fare una scelta, di prendere una decisione, di arrivare ad una indicazione precisa, ad una presa di posizione precisa. Il re prudente. Quindi mettete assieme, appunto, questa volontà di avere sotto il suo stesso stretto controllo ogni anche più piccolo aspetto della vita del suo impero. Questa sua lentezza decisionale è, infine, la lentezza delle comunicazioni tra la capitale e le zone, le regioni più lontane, più remote del suo impero. E comprenderete benissimo come questo modo di governare e amministrare il suo impero risultasse, diciamo, a lungo andare molto dannoso, inefficiente ed estremamente dispendioso. estremamente dispendioso perché tenere continui contatti, rapporti, comunicazioni tra la capitale e tutte le parti dell'impero esigeva costi enormi, il mantenere in attività una rete estremamente complessa e ramificata di messaggeri che dovevano muoversi in avanti e all'indietro attraverso i mari e gli oceani per tenere i contatti, i collegamenti, le comunicazioni tra la Spagna e il resto dell'impero spagnolo esigeva costi elevatissimi e comportava spese gigantesche. costi e spese a cui si aggiungevano i costi e le spese necessari a mantenere in vita un vero e proprio esercito di impiegati statali, di funzionari pubblici, di rappresentanti del re disseminati per ogni parte dell'impero, figure necessarie, indispensabili appunto a tenere continuamente i contatti con il re e i suoi collaboratori e necessari appunto per consentire al sovrano di tenere attentamente sotto controllo la situazione di tutto l'impero. Quindi questo gigantesco apparato burocratico, questa miriade di funzionari impiegati pubblici ufficiali appesantiva ulteriormente le spese dello Stato. Dunque questa scelta centralistica compiuta da Filippo II fu davvero una scelta infelice. Ma tant'è, Filippo II fino all'ultimo rimase fermo e fedele a questa sua impostazione e tutt'al più si circondò di una cerchia molto ristretta e molto fedele di collaboratori che componevano i cosiddetti consigli. Si lasciò affiancare da questi collaboratori che facevano parte dei cosiddetti consigli. I consigli erano organismi composti da persone particolarmente fidate e particolarmente competenti che aiutavano il re nella gestione di vari ambiti di attività del suo Stato. C'era il consiglio delle finanze che si occupava appunto dei problemi economici, c'era il consiglio della guerra che affrontava appunto le situazioni legate ai vari conflitti intrapresi da Filippo II, c'era il consiglio di Stato che si occupava di politica estera, c'era il consiglio della Inquisizione che invece aveva come sua competenza la lotta contro le eresie e contro, diciamo, le varie forme di devianza dal credo cattolico. Sì, perché Filippo II si considerava proprio, diciamo, il braccio armato della controriforma. Notate questo nome, Consiglio dell'Inquisizione. Il consiglio dell'Inquisizione, come gli altri consigli, era direttamente guidato da Filippo II. Questo cosa significa? Significa che nel suo regno e nei territori legati al suo regno, o meglio al suo impero, Filippo II gestiva in prima persona la politica religiosa. Si occupava direttamente e personalmente della repressione degli eretici e dei protestanti. Il tribunale incaricato appunto di colpire, perseguire gli eretici e più in generale gli infedeli, gli infedeli rispetto al credo cattolico, naturalmente, il tribunale incaricato di fare questo, nel territorio, nei territori dell'impero spagnolo, era, manteneva la sua antica denominazione, la sua denominazione medievale, tribunale, della Inquisizione. Invece, nel resto del mondo cattolico, fuori dei domini spagnoli, come sappiamo, questo tribunale aveva assunto, con il Concilio di Trento, una nuova denominazione, cioè Tribunale del Sant'Ufficio, e la sua gestione era stata affidata ad uomini di chiesa. e faceva capo, in ultima analisi, al Papa. Invece, nei territori spagnoli, era il re di Spagna, era Filippo II, a presiedere al tribunale della Inquisizione, e a delegare i propri funzionari alla gestione di questo tribunale. Quindi, Filippo II si intromette anche abbastanza pesantemente nella vita della chiesa spagnola, tant'è vero che non di rado è lui a scegliere, o perlomeno a indicare, gli alti prelati, cioè i vescovi e i cardinali della chiesa spagnola. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Se confrontiamo lo stile di governo adottato a suo tempo dal padre di Carlo V, per controllare, amministrare, governare, gestire il proprio impero, le differenze risaltano in modo evidente. Carlo V non aveva mai fissato la capitale del proprio impero e nemmeno la capitale del Regno di Spagna, non aveva mai scelto una capitale fissa. In secondo luogo, Carlo V aveva ampiamente delegato il governo delle regioni più lontane, delle parti più periferiche del suo impero ai propri rappresentanti, per esempio i vicere che governavano le colonie dell'America centro-meridionale. Carlo V, in terzo luogo, aveva continuamente viaggiato in lungo e in largo per tutte le parti europee del suo impero. Non era mai rimasto fermo. Mentre Filippo II vive quasi sempre tra Madrid e l'Escorial. Sarebbe interessante anche, come dire, un approfondimento su questa reggia, su questo palazzo dell'Escorial, la cui stessa struttura è, diciamo, architettonica, e ci fa capire molto della mentalità di Filippo II. Se uno osserva dall'alto, una foto dall'alto del palazzo dell'Escorial, si accorge che questo palazzo, questa reggia, ha la forma di una griglia, di una graticola. Questo non a caso, perché in questo modo Filippo II aveva voluto rendere onore ad uno dei suoi santi prediletti, vale a dire San Lorenzo, che era stato martirizzato su una graticola, appunto. Il che, ripeto, dice molto della mentalità quasi fanaticamente religiosa, della devozione religiosa ma quasi fanatica di Filippo II. Carlo V, infine, a differenza del figlio Filippo II, era stato molto più rispettoso delle diversità culturali, linguistiche, economiche delle diverse parti del suo impero, mentre Filippo II fu assai meno disposto ad accettare queste diversità. Come dicevo, questa scelta scelta centralistica compiuta da Filippo II si rivelò anche estremamente onerosa, estremamente costosa dal punto di vista economico, appunto perché mantenere una rete così folta, così fitta di funzionari pubblici, di impiegati, di ufficiali, pubblici ufficiali disseminati per tutto l'impero, esigeva costi enormi, altrettanto dispendioso era il mantenimento delle comunicazioni costanti tra tutte le parti dell'impero. Filippo II cercò di diciamo recuperare almeno in piccola parte queste spese mettendo in vendita le cariche pubbliche offrendo queste cariche a chi era disposto a pagare di più per ottenerle ma questo generò un enorme problema di corruzione perché naturalmente chi investiva il proprio denaro nell'acquisto di una carica pubblica poi si rifaceva delle spese sostenute per ottenere questa carica facendosi pagare facendosi pagare per lo svolgimento delle sue funzioni facendosi pagare dai sudditi per l'adempimento dei propri compiti è come se io comperassi la mia il mio ruolo di insegnante diventarsi insegnante acquistando questa funzione e poi mi rifacessi delle spese che ho dovuto affrontare per diventare insegnante per acquistare questo titolo sui miei studenti e sulle loro famiglie ecco moltiplicate situazioni del genere per le centinaia di migliaia di funzionari pubblici che lavoravano al servizio del re di spagna e avrete le proporzioni appunto di questa diffusissima corruzione che affliggeva i pubblici funzionari la pubblica burocrazia del regno di spagna all'epoca di filippo secondo ma resta il fatto comunque che questa scelta centralistica fu in ogni caso estremamente dispendiosa per le casse dello stato spagnolo come se non bastasse la situazione finanziaria del regno di spagna venne ulteriormente aggravata appesantita dalle guerre combattute in continuazione da filippo secondo praticamente dal primo all'ultimo momento del suo regno della sua vita di sovrano guerre che esigevano costi elevatissimi e quindi il mantenimento di una miriade di pubblici funzionari da un lato dall'altro dall'altro i costi necessari per finanziare le guerre combattute ininterrottamente provocarono il dissesto il disastro finanziario totale per il regno di spagna nonostante le smisurate risorse che sulle quali Filippo secondo poteva contare grazie alle colonie soprattutto alle colonie americane tutto l'oro e l'argento i fiumi di oro ed argento che provenivano dalle miniere dell'america latina vennero dilapidati in questa gestione dissennata del regno di Filippo secondo e per sovrappiù come se non bastasse va anche aggiunto che il regno di spagna non poteva reggere il confronto con altre realtà europee sul piano delle attività produttive mi spiego meglio mentre in Inghilterra mentre negli stessi Paesi Bassi che gravitavano attorno al Regno di Spagna mentre in altre parti d'Europa per esempio in Francia era presente una borghesia imprenditoriale attiva intraprendente capace una borghesia fatta di artigiani di mercanti di banchieri capaci di produrre ricchezza di far circolare il denaro di creare benessere di dar vita a traffici commerciali che davano fiato all'economia dei loro paesi invece in Spagna questa borghesia imprenditoriale attiva e intraprendente questa classe sociale di mercanti banchieri artigiani era assente o comunque era presente in misura assai minore anche per motivi che per motivi specifici che considereremo più avanti e quindi anche questo impoveriva impoveriva la società spagnola quindi il regno di Filippo II era afflitto anche da questa carenza dalla mancanza di questi ceti produttivi tant'è vero che la Spagna era costretta a procurarsi molti beni molte merci di cui pure aveva bisogno aveva necessità era costretta a procurarsi tutto questo all'estero e naturalmente spendendo molto di più di quello che avrebbe speso se fosse stata in grado di produrre in proprio ciò di cui aveva bisogno quindi riassumendo un dissesto economico un dissesto finanziario provocato quello di cui soffre sempre di più il regno di Spagna sotto sotto la guida di Filippo II provocato da scelte davvero infelici il centralismo politico amministrativo una serie di guerre ininterrotta quindi una politica estera estremamente conflittuale una politica economica infine incapace di dare forza e slancio alle attività produttive in Spagna ecco questi sono gli aspetti che secondo me caratterizzano e contraddistinguono la situazione del regno di Spagna all'epoca di Filippo II di Asburgo le prossime volte ci concentreremo invece sulla politica estera di Filippo II e quindi sulle guerre continuamente intraprese dal re prudente alla prossima